Fare il punto sulla situazione economica e sociale a livello regionale e nazionale in modo particolare rispetto alla situazione politico-sindacale nazionale ed interregionale e sull'intesa con il governo sulla legge di stabilità. La Cisla Abruzzo e Molise si è ritrovata a Francavilla al Mare per un consuntivo di fine anno. Il segretario interregionale Leo Malandra esprime un cauto ottimismo rispetto all'andamento dell'economia in Abruzzo, anche sulla base dei dati positivi sull'occupazione nel terzo trimestre del 2016 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno che hanno riportato la nostra regione a livello pre-crisi. È una crescita soprattutto endogena, dovuta proprio alla buona volontà delle imprese e del territorio a crescere. Mancano ancora, per dare veramente stabilità a questa crescita, quegli interventi tanto desiderati e tanto in quanto sindacato condivisi con la regione rispetto agli strumenti di programmazione come il masterplan, il patto di Pescara tanto decantato. I dati dell'occupazione sono buoni, almeno nell'ultimo trimestre. C'è un outlook positivo secondo voi anche per il 2018? Sicuramente sì, ripeto, oggi siamo arrivati praticamente quasi al livello che avevamo nel 2008, mancano 3.000 unità. Siamo convinti che se partono questi cantieri e queste attuazioni della programmazione lo sviluppo riparte seriamente e ci sarà la possibilità di ulteriori occupati e quindi di una crescita consolidata che sicuramente farà bene a tutto l'Abruzzo. La CISL per il 2018 che obiettivi si pone come sindacato? Noi cerchiamo di essere il pungolo della regione con proposte credibili e responsabili proprio per cercare di portare avanti uno sviluppo omogeneo del territorio. Noi abbiamo un territorio a macchia di leopardo, abbiamo grandi realtà, abbiamo un export che funziona, ma contemporaneamente abbiamo ancora situazioni di grande sofferenza. Pensiamo a una cassa integrazione che a differenza del resto dell'Italia non scende come nel resto dell'Italia. Noi scendiamo del 3%, il resto dell'Italia scende del 38%. Questo vi fa capire che ci sono ancora situazioni strutturali di crisi importante, per non parlare per esempio di quello che è successo alla Honeywell, che è una cosa veramente incomprensibile e inaccettabile. Per la CISL sarà un 2018 impegnativo anche sul versante nazionale, a partire da grandi questioni come lavoro e pensioni. Nel 2018 occorrerà assolutamente fare una riforma fiscale. Noi abbiamo bisogno di rivedere il sistema fiscale nel nostro Paese per dare sostegno anche alle misure e alle politiche sociali. Poi ovviamente dovremo seguire con molta attenzione l'attuazione di tutti quei provvedimenti che dovranno generare nuovi posti di lavoro.